Ricordiamo che Romagna Servizi Industriali, Società di Servizi di Confindustria Romagna, promuove il progetto Sud-Est Asiatico 2017. Il progetto ha l'obiettivo di supportare le imprese che vogliono entrare sul mercato di Singapore, Malesia e Indonesia, attraverso un'attività su misura tagliata sull'esigenza di ciascuna azienda. Il progetto prevede una missione che si terrà nella settimana dal 10 al 14 di luglio. Prima della missione ogni azienda riceverà un'agenda di appuntamenti prefissati sulla base delle esigenze che ci ha manifestato e dei profili dei partner che l'azienda ci ha segnalato di andare a ricercare. Per cui di fatto ogni azienda avrà la possibilità di svolgere un'attività di ricerca partner, di individuazione di nuovi partner su Singapore e Kuala Lumpur o piuttosto che su Singapore e Jakarta. Per le aziende invece del settore agroalimentare abbiamo previsto la partecipazione alla fiera Italian Food & Wine che si tiene a Singapore di due giorni nei quali ci sarà la partecipazione di buyer provenienti non solo da Singapore ma anche da Malesia, Hong Kong, Cina, Giappone, Sud Corea, India e quindi diversi paesi, più paesi dell'area ASEAN e questo appunto per favorire una migliore conoscenza e far conoscere meglio i nostri prodotti dell'agroalimentare. Ricordo appunto nuovamente la missione dal 10 al 14 di luglio la scadenza delle iscrizioni è il 28 di aprile e le aziende che fossero interessate ad avere maggiori informazioni possono contattare i riferimenti che trovate in sovraimpressione.